Ciao a tutte, oggi sono qui per parlarvi della rubrica ricordando l'estate, una rubrica che ho in collaborazione con Aquilalina dove facciamo vedere i vestiti che più abbiamo portato durante l'estate sono i nostri vestiti preferiti iniziamo subito con questa qua che è una maglietta di Patrizia Pepe con l'anguria ci ho fatto anche un trucco, uno dei primi trucchi è stato il trucco anguria l'ho pagata, non diciamo quanto io la metto col verde vedete perché col verde col rosso con l'arancio con tutti i colori poi c'è questa canottiera qua che è della Fard penso e questa l'ho presa ai saldi e l'ho pagata tipo 19 euro scontata quindi ne ho presa un'altra cioè prima ho comprato la verde poi ho comprato ed è molto fresca perché è leggera mi piace, le ho portate molto queste due canottiere poi per il sotto diciamo c'è questa gonna qua che è nera non si vede una peata no io mi sposto dalla parte di là che ora non si vede ma vedete come è fatta così e c'ha la sottoveste insomma sotto gonna con il fiocchino da legare di lato questa l'ho portata tanto sia con i tacchi che con l'infradito anche e l'ho presa sia nera l'ho comprata al mercato sembra l'ho pagata 15 euro 19 euro una cosa così e l'ho presa anche di questo colore color fango come dico io e la mia cucina mi dice sempre ah che palle dici sempre color fango ma è vero è color fango per i pantaloni io d'estate diciamo da quando comincia a fare caldo fino a ora via nella mattina fa fresco non porta assolutamente jeans quindi o gonne o pantaloni corti e ho portato tanto questi che ve li faccio vedere in basso poi ve li alzo con le taschine che sono lunghi e hanno il polsino in fondo che rimangono tutti morbidi e anche questi li ho presi sono un po' trasparenti mettiamo tipo se ci metto il cellulare si vede tutto e li ho presi sia rosa che blu a blu non si vede niente insomma sia rosa che blu e anche questi li ho presi in mercato a 10 euro l'uno penso sì li ho presi anche bianchi però bianchi li ho regalati alla mamma quindi questi sono i miei vestiti preferiti diciamo per l'estate poi ce n'è tantissimi altri che mi piacciono però non è che ve li posso far vedere tutti magari piano piano o con altre in altre occasioni quindi detto questo vi mando un bacione saluto a qui la Nina sentiamoci presto per un'altra rubrica e continuate a seguirmi ciao